Amici buongiorno, bentornati sull'orizzonte degli eventi, grazie per seguirmi. Io spero nel mio piccolo di farvi passare un po' di tempo ascoltando delle storie e quindi oggi il video avrà come protagonista un anno. Parliamo del 1969, che è un anno ancora più importante, significativo del 68. È un altro capitolo di questa enciclopedia che stiamo realizzando io e Mario Iannacone sulla rivoluzione culturale che ha portato a questa realtà odierna. Parleremo di alcuni importanti eventi considerati come dei segnali di un cambio, di uno slittamento di paradigma. Quindi con Mario Iannacone partiamo per questo viaggio con la macchina del tempo, torniamo al 1969. Speriamo di interessarvi, speriamo di farvi compagnia. Ciao, io sono Barbara Tampieri e questo è l'orizzonte degli eventi. Ciao! Amici, buongiorno. Ciao, Mario. Bentornato. Grazie mille. Bentornato a Mario Arturo Iannacone e oggi affrontiamo un anno della nostra vita, nostra che l'abbiamo vissuta ma nostra collettivamente fa parte del nostro passato. Abbiamo parlato con l'amico Danilo Fabroni del 68 e oggi con Mario Iannacone parliamo del 1969 che è un anno altrettanto importante se non ancora più importante del 68 perché tante cose che erano esplose nel 68, nel 69 arrivano a compimento, proseguono la loro azione e il 69 come tutti gli anni che chiudono un decennio è un anno di passaggio caratterizzato poi in quel caso da alcuni eventi estremamente importanti di cui parleremo. Ovviamente la luna, alcuni altri eventi che possono anche essere interpretati tutti assieme come uno spirito del tempo e quindi cominciamo a parlare di questo anno, un anno terribilis forse più che annus orribilis, un anno molto 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 all'insegna di Marte, forse anche molto Saturno più che Marte, vogliamo fare gli astrologi per carità. Marte l'anno precedente e Saturno quello più successivo, 68 e 69. Questo anno inizia proprio a gennaio, il 16 gennaio, con un atto estremo compiuto da un giovane studente a Praga che si chiamava Jan Palach. Jan Palach si dà fuoco e le ultime sue parole furono salvi la lettera a uno che passava lì e vide impotente quello che stava succedendo. In questa lettera Jan Palach intendeva protestare contro l'occupazione da parte dell'Armata Rossa della Cicoslovacchia avvenuta l'anno prima, nel 68, nell'agosto del 68. Fu un atto che sconvolse l'opinione pubblica, io me lo ricordo, e allora tutti ebbero una grande pietà di questo gesto. Fra l'altro Jan Palach non fu il solo, in tutto 17 persone che in varie parti della Cicoslovacchia si dedero fuoco imitando questo gesto. L'ultima cosa che dico, quando inevitabilmente si creò il culto di questo martire, di questo ragazzo che aveva fatto questo gesto estremo, le autorità disseppellirono il corpo, lo cremarono e le ceneri furono sparse in una fossa comune, proprio con una volontà di cancellare. È interessante perché noi abbiamo fatto un video invece su come certi cadaveri venivano imbalsamati e mantenuti quasi vivi per l'eternità. Beh, i capi, certo. Sì, una cosa molto inquietante questa. Diciamo che è coerente, no? Mentre il capo viene, perché anche nella testa Cicoslovacchia, se non sbaglio, è accaduto, mentre i capi venivano imbalsamati, tenuti, mantenuti, i retici, i ribelli di quel sistema venivano distrutti, fatti sparire, nei gulag, cancellati. Ma questo fatto appunto di seppellire il corpo, cremarlo e disperdere le ceneri è proprio una volontà di distruzione. Fa venire in mente come è stata introdotta da noi la cultura della cremazione e oggi tante persone dicono, ah ma io mi voglio fare disperdere. Sì, sì. Anche questa è una bella deriva nichilista. Persino Foscolo non sarebbe d'accordo. Sì, soprattutto lui. Era un rivoluzionario inizialmente giacobino. Sì. Invece a febbraio iniziano le rivolte studentesche in tutto il mondo. C'è una rivolta particolarmente violenta a Tokyo, in Giappone, che viene repressa in maniera molto violenta. E durante tutto questo anno ci saranno rivolte nelle carceri e quello che è passato alla storia come l'autunno caldo. Che però servì per anche mettere alcuni punti fermi su alcune lotte operaie che giustamente avevano la necessità di condurre a quello che l'anno successivo credo sia stato lo statuto dei lavoratori. Salari più alti, eccetera. Le ferie. Ecco, quel tipo di sinistra che lavorava a favore degli operai poi sappiamo che fine ha fatto, è sparita perché adesso si interessa di cose che non hanno più a che fare con questo. E oggi si dice appunto la classe operaia non vota più per la sinistra perché la sinistra non si occupa più. Mi piacerebbe una tua riflessione su questo. Ebbè certo, questo è uno dei temi centrali di questo slittamento di paradigma di questo periodo in Italia ma non soltanto in Italia perché cose simili succedono in Francia, succedono in Germania, succedono in altre nazioni, non nell'anglosfera, non succedono in Inghilterra, c'è qualcosa negli Stati Uniti ma il centro è certamente in Italia. Ma fondamentalmente quello che succede in quell'anno da noi è l'inizio della strategia della tensione con una serie di bombe che vengono fatte esplodere, per lo più fatte esplodere, alcune vengono trovate a partire dalla fiera campionaria, proprio il 25 aprile del 1969 esplode una bomba alla fiera campionaria. Nel corso di tutta l'estate vengono trovate altre 7, 8, 9, 10 bombe su treni in varie parti d'Italia e il 12 dicembre del 1969, come sappiamo, esplode la bomba della Banca dell'Agricoltura a Piazza Fontana a Milano. Questo che cosa porta? Come dire, è l'inizio di un processo che porterà una divisione della sinistra, fa una sinistra considerata massimalista, rivoluzionaria, alla quale poi, nonostante i tentativi di allontanarsi, di diversificarsi, di fare dei distinguo, verrà avvicinata la sinistra comunista vera e propria. Ed è l'inizio di quel processo che nel giro di 7-8 anni, perché io direi che dopo il Parco Lambro, 78-79, il processo è concluso, l'inizio della nascita, diciamo, di quella sinistra, che oggi viene chiamata fucsia-rosè, cioè il radicalismo di massa, cioè la sinistra che si occupa delle minoranze, ma non si occupa più dei lavoratori, che sembra già plasticamente, direi, in quel 69 distinta fra i movimenti che nominavi tu dell'autunno caldo e questi strani movimenti che invece avvengono nell'ombra e che sono la strategia della tensione, che radicalizzeranno e che alla fine causeranno in fondo anche una crisi di una parte della sinistra. Questo è un processo che durerà un decennio e inizia proprio così, inizia in questo momento, iniziato un pochino prima in realtà perché ci sono stati dei personaggi attorno al 68, un po' prima del 68, che scrissero dei libri come, non so, cito Franco Fortini, di Verifica dei poteri, un libro che è uscito qualche anno prima del 69, dove noi troviamo in modo abbastanza impressionante, adesso è pubblicato dal saggiatore, credo, la sinistra odierna, cioè la sinistra culturale, quella un po' radical chic, come in un progetto. Franco Fortini, con il 63, fu un ideologo letterato molto ascoltato in quegli anni ed è impressionante vedere come qualche anno prima noi troviamo appunto le idee che poi negli anni 80 soprattutto fioriranno, le troviamo già lì. Quindi le bombe del 69 furono un trauma utilizzato in vari modi, ma che distrusse la vecchia sinistra nel corso di un decennio, un po' meno di un decennio, poi intanto ci fu il processo dell'eurocomunismo, che già era una via di mezzo fra quello che è adesso e poi si arrivò alla fine degli anni 80 più o meno già a quello che oggi vediamo, anche se poi il processo oggi è molto più avanzato. Senza scordare che sono gli anni degli opposti estremismi, dove c'è un scontro anche fisico continuo tra opposte fazioni e questo scontro poi alla fine in un certo senso deve essere canalizzato e fermato forse con degli atti come quelli di Piazza Fontana e delle altre bombe perché quel giorno lì scoppiarono cinque ordigni, non per fortuna con la stessa carica distruttiva di quello della Banca dell'Agricoltura, però ci furono attentati all'Altare della Patria, in altre banche. tutta questa energia negativa che era stata scatenata doveva in qualche modo essere appunto canalizzata in quello che poi nel decennio successivo si è cominciato a chiamare la shock therapy, la terapia dello shock, che poi inizia negli anni 70, viene sperimentata in Sud America, negli altri paesi. Insomma, uno shock continuo dietro l'altro per... shock no, come diceva Bush, no? Come no? Questo viene dopo però, insomma, il principio è quello, scioccare e spaventare e intimidire. Poi magari questo lo riprendiamo ma sappiamo bene, sappiamo tutti credo, che lo shock, cioè proprio nelle sue conseguenze anche psicologiche, viene studiato da una serie di psicologi, di psichiatri anche validi, insomma, come John Bowlby e altri, o Kurt Levin, all'Istituto Stavistock. Loro soprattutto hanno studiato le conseguenze dello shock sul singolo e sui gruppi. E questo quindi magari dopo ci porterà a fare qualche considerazione, no? Sul fatto che alcuni di questi eventi probabilmente facevano parte di una strategia di ingegneria sociale. Come diceva poi, pochi anni dopo, no? Dieci anni dopo, nel 78, Augusto del Noce, che scrisse quel famoso libro che si chiamava Il suicidio della rivoluzione, nel quale lui appunto sosteneva che il comunismo, mi riferisco ancora al comunismo adesso, senza dimenticare che c'erano gli opposti estremismi assolutamente, si stava trasformando in un radicalismo di massa. Lui fu veramente profetico, no? In questo libro scritto nel 78, stava diventando radicalismo di massa, con tutto quello che oggi conosciamo. Quello fu un libro, io credo, profetico. Concludiamo con, appunto facendo quest'ultima riflessione, che in quell'anno, nel 69, vengono espulsi dal partito comunista quelli del manifesto, che vengono espulsi per avere fra l'altro contestato anche l'invasione della Cecoslovacchia. Quindi c'è questa contrapposizione all'interno di quel mondo, tra chi è fedele alla linea, fa parte della vecchia guardia, per cui tutto quello che fa l'Unione Sovietica non va assolutamente criticato, e i nuovi che forse poi sono un po' più dalla parte della Cina, insomma c'è anche tutto quel discorso lì che... La regressione, la ciotola di riso. Sì, e quello è un partito che secondo me è molto attuale. Attualissimo. Attualissimo, sì. Ciotola di riso, appunto la regressione alla capanna, Greta Thunberg, insomma noi troviamo in questi signori già allora dei temi che oggi l'ecologia radicale cavalca. Magari non proprio come ecologia allora, ma intanto si parlava molto in quegli anni, anche sul Manifesto e su altre riviste, di quell'area, del crollo della civiltà, della impossibilità di sostenerla, delle pandemie possibili, della grande fame, e quindi si mostrava la Cina, che allora era un paese appunto regredito, comunque era un paese ancora di contadini, soprattutto come modello, a cui bisognava arrivare. Così come facevano negli Stati Uniti gli hippie, che avevano come modello gli indiani d'America con le scuò e il tipee. Torniamo in Italia, perché c'è un episodio curioso da raccontare, avviene ovviamente come tutti i mesi di febbraio, che da un po' di tempo a questa parte, c'è il Festival di Sanremo, e ovviamente ci si lamenta allora, figuriamoci adesso, della qualità poco importante delle canzoni. Contemporaneamente viene organizzato un controfestival di contestazione di questa manifestazione della cultura o sottocultura borghese, manifestazione che viene a sua volta contestata da uno che si alza contestando a sua volta quelli che contestavano. E costui era Pietro Valpreda, un anarchico che poi alla fine dell'anno diventerà il protagonista della cronaca perché sarà ingiustamente incolpato, anzi viene sbattuto in prima pagina come l'esecutore materiale della strage di Piazza Fontana. Sì, sì. Io ricordo di aver letto un pezzo di Blondé, Maurizio Blondé, che era allora un cronista, spero di non sbagliarvi, ma credo proprio di aver letto questa cosa, il quale diceva che lui era stato mandato a fare la, diciamo, così, come dire, il giornalista investigativo, no, su questo scenario e aveva verificato che non poteva essere lui. però lui fu il mostro in prima pagina che non aveva i santi in paradiso. rientra nei misteri d'Italia. Sì, continui dei pistaggi, ogni tanto va dentro qualcuno, poi lo tirano fuori, vent'anni dopo dicono che non c'entrava niente, un giudice viene accusato, un altro salta fuori, devono restare misteri, è strategia della tensione, se no non sarebbe strategia della tensione. Lo stesso è il mostro di Firenze e l'Italicus, insomma, molte altre cose, poi qualcuno lo prendono anche, ecco, magari sono soltanto quelli che mettono la bomba, quindi fanno una cosa terribile, ma i mandanti, se uno ha letto i libri di Fasanella, per esempio, ha visto, può aver verificato, Fasanella è un bravo, insomma, giornalista investigativo che ha scritto diversi libri sul caso Moro, su tutti questi casi, insomma, la pista inglese, e insomma, lì veramente ci si rende conto che si entra in labirinto, proprio come nei labirinti rinascimentali. Sì, fra l'altro consiglio, proprio in riferimento al 69, alla strategia della tensione, perché ci sono alcuni passaggi molto molto interessanti, quindi rinviamo a questo testo. In quell'anno, 1969, avviene un delitto terribile, e cioè il caso di Ermanno Lavorini, un bambino, un ragazzino, che sparisce da casa. I giornali pubblicano questa foto di questo bambino col vestito della comunione. è un'immagine che è rimasta per chi c'era allora molto nella memoria, ed è un caso che avviene a Viareggio, finisce tragicamente con il ritrovamento del cadavere di questo bambino. Anche questo non è molto chiaro come delitto, non è stata fatta chiarezza. Viene, diciamo, derubricato come un delitto accidentale tra ragazzi. Un po' come la morte di Eugenio in Pinocchio, questo ragazzino che prende questo colpo in testa, sbianca, che cade morto. È un caso che fece parlare moltissimo e che è rimasto, come tanti successivi, questi sacrifici di bambini che ha colpito molto. Non so se sei d'accordo. Sicuramente, sicuramente. Chi a quell'epoca, insomma, chi può ricordarsela, proprio perché aveva queste modalità anche sacrificali del bambino, poi era un bambino, poi era stato seppellito in una spiaggia dove di solito d'estate la gente si ritrovava contenta e felice. Ed è uno di quei tanti delitti risolti delle spiagge italiane. Perché io ricordo che qualche anno prima c'era stato il caso Montesi, non siamo nel 69, siamo qualche anno prima, che aveva toccato gli ambienti più alti della Roma politica, perché era stato implicato il figlio di un importante politico che poi è divenuto musicista di film molto importanti, piccioni. Era stato implicato e era stato poi anche scagionato, però era rimasto così, insomma, l'idea che si fosse toccato un ambiente molto alto e che poi si fosse lasciato stare il tutto, così come è successo in tanti altri casi, il caso di Armando Lavorini e altri ancora. Io ricordo benissimo, perché abitavo a poca distanza, il caso di Milena Sutter. Milena Sutter è un altro caso, anche quello su una spiaggia. Sì, sì, sì. Esatto, esatto. C'era anche tutta una serie. Sì, la ragazzina fu trovata lì sulla spiaggia di Preruggia. Quello fu uno shock terribile. È un altro dei casi, appunto, sì. Diciamo che una cosa che si può osservare è che forse qualcosa di simile accadeva anche prima, nel senso che gli omicidi ci sono sempre stati, anche quelli più efferati. Però ecco, la televisione iniziò, in quegli anni, soprattutto in questa data card, dopo la data card, nel 68-69, a occuparsene in modo non ossessivo come oggi, però in modo molto più importante, quasi creando una sorta di demoralizzazione, come direbbe Hillman, no? Per Hillman è molto importante essere demoralizzati, perché è solo così che si può sviluppare il meglio di sé. Questo per quanto riguarda gli omicidi. Se poi apriamo il capitolo omicidi, più o meno rituali, non ci fermiamo più. Il 69 è l'anno della luna. È l'anno della luna. È l'anno della luna. Abbiamo accennato al ruolo dei media la diretta organizzata dalla RAI, che perché allora c'era solo la RAI, non c'era altro. Diretta durò ininterrottamente, adesso non mi ricordo quante ore, comunque, Tito Stagno, che era il conduttore di questa trasmissione, si portò da casa il cambio, l'antessignano delle maratone di Mentana. E fu una trasmissione che raccolse una media, quindi con più o meno, tra i 10 e 19 milioni di telespettatori. Addirittura, il giorno dopo, fu fatta una deroga. Insomma, le persone potevano andare al lavoro più tardi, proprio perché avevano fatto le 4, le 5 di mattina a seguire questo evento. Quindi, anche dal punto di vista mediatico, è molto interessante come furono riempite queste ore in attesa effettivamente delle immagini che provenivano dalla Luna. Intellettuali, ognuno diceva la sua, panegirici, insomma, su questa impresa mirabolante. Quindi, sarebbe interessante anche andare a rivedere queste immagini, se esistono ancora. L'unica che adesso viene passata è il famoso ha toccato, ha toccato, che ci fu poi un bisticcio con Ruggero Orlando, perché lui sosteneva che, insomma, aveva un po' anticipato i tempi di Tostagno. Tu come ti ricordi questa notte? Allora, ricordo, devo dire che non ricordo molto, forse avevo 5 anni o 4, come fosse qualcosa di vago. Però, mi permetto magari di dire qualcosa, no, rispetto a questa grande operazione che era iniziata qualche anno prima e che fu portata a termine, forse, certamente fu portato a termine l'atto mediatico, no, dell'andata sulla Luna. Poi, magari ci siamo andati, qualcuno può avere dei dubbi, invito a vedere un documentario di Massimo Mazzucco che si chiama American Moon. Ma, a parte questo, a me questo ha sempre interessato, soprattutto dal punto di vista dell'operazione che è stata fatta sull'immaginazione. Perché se riteniamo che il 69 sia stato un anno nel quale c'è stato uno slittamento di paradigma culturale, poi il termine slittamento di paradigma lo si usa nella filosofia della scienza, quindi adesso lo prendiamo in prestito perché ci può essere utile, sicuramente il fatto di poter dire che si era andati sulla Luna, quindi su un astro che stava al di fuori della nostra terra per la prima volta, rendeva accettabile molte cose, molti comportamenti, nuove istituzioni, nuove mode, nuovi modi di pensare che prima non sarebbero stati leciti. Cioè questa è una grande operazione prima di tutto tecnologica certamente, ma secondo me prima di tutto sull'immaginario, è uno spostamento in avanti dell'ecito e dell'immaginabile e di fatti dopo di allora tante cose che prima non erano diciamo giudicate lecite immaginabili cominciano ad esserlo perché se siamo andati sulla Luna beh, allora possiamo fare nei vari campi della scienza, della famiglia, del lavoro, della tecnologia molte cose che prima non potevamo fare. Quindi io sempre l'ho percepita da quando siamo cominciati a ragionare un po' su questo evento come una straordinaria potentissima operazione sull'immaginario della gente. In un certo senso prendiamo un concetto di cui si parla oggi molto che è la famosa finestra di Overton Overton era un attivista repubblicano che applicava poi nel campo della politica concetti che venivano da Bernays da ingegneri sociali insomma da personaggi che lavoravano nella pubblicità eccetera. Beh, in questo caso con l'andata sulla Luna l'impensabile a cui solo in pochi credevano i radicali di scienziati radicali era diventato non solo accettabile ma a un certo punto era diventato sensato ed era diventato vero. Quello che prima pensavano in pochi nel 62-63 quando Kennedy lancia questa sfida piano piano attraverso un processo che può anche essere eseguito sono stati scritti dei libri su questo diventa a un certo punto realizzabile poi è stato realizzato o non è stato realizzato adesso questo assolutamente non ci importa magari sì magari no non lo so dobbiamo essere aperti a tutto però ecco fondamentalmente è questo non a caso subito dopo si aprono possibilità delle liceità insomma che prima non erano consentite a me non sembra un caso che subito dopo l'andata sulla luna per esempio inizi per esempio nel campo del cinema l'industria pornografica non metto in collegamento le due cose ma era possibile cioè l'umanità era andata talmente avanti che non si poteva ormai fare come dire le educande su tanti aspetti della vita della vita della famiglia o della morale e quindi io adesso ho fatto solo un esempio ma se ne possono fare molti magari qualcuno facciamo tempo a farlo questa operazione era stata preparata peraltro nel 68 con l'uscita del grande film di Stanley Kubrick e qui non diremo nulla sui sospetti che riguardano le immagini assolutamente straordinarie di questo film che visto ancora oggi in alta definizione in blu-ray è assolutamente incredibile cioè non è invecchiato questo film viene presentato dunque esce nella primavera estate del 68 e ha il suo percorso nel corso del 69 cioè poco prima e parlava di una chiamiamolo pure slittamento di paradigma grandioso che sarebbe avvenuto nel 2001 noi sappiamo che nel 2001 una cosa grossa è successa con l'umanità che faceva un salto diciamo quantico ecco tra l'altro dichiarò che aveva realizzato il più grande film religioso lui aveva un'idea di avere non tanto un film di fantascienza che effettivamente era non rispondeva a nessuno dei canoni della fantascienza di allora perché non c'erano gli alieni però c'era molta filosofia anzi quasi tutta filosofia e anche un senso di qualcosa di non per tutti ecco un messaggio che poteva essere capito forse col tempo con con l'applicazione ma non non sicuramente un messaggio per le masse beh certo no infatti fu stroncato all'epoca no come noiosissimo e via dicendo questo monolito nero ha qualcosa anche un po' così di di oscuro ed inquietante ma sicuramente secondo me lui aveva molto in mente Nietzsche ad esempio in quanto Bowman no l'uomo freccia no che va verso diciamo i pianeti esterni del del sistema solare i grandi pianeti gassosi del sistema solare è l'uomo freccia che troviamo in così parlo Zaratustra e infatti la musica di Strauss è così parlo Zaratustra quindi l'umanità era pronta al grande salto l'umanità era pronta al grande salto il grande salto forse ultimo sarebbe stato fatto nel 2001 noi sappiamo che dal 2001 in poi 2001 2002 c'è stata un'accelerazione di certi eventi di certi fatti della globalizzazione e così via ma certamente nel 69 c'è stato come un un avviso poi era tutto preparato ma certamente qualcuno spingeva perché certi cambiamenti avvenissero sarebbero potuti non avvenire ma sono avvenuti non so se ho dato l'idea insomma delle connessioni possibili come tante altre cose anche la conquista dello spazio che viene annunciata da Kennedy il quale poi viene sacrificato il primo grande sacrificio del decennio Camelot insomma tutti questi riferimenti il regicidio il 33esimo parallelo è un re non era un re però aveva un po' l'atteggiamento del re lo chiamavano King of Camelot King of Camelot quindi e lui dice il nostro progetto è quello di andare sulla luna entro la fine del decennio però purtroppo non riesce a vedere questa conquista ma lui non doveva vederla perché lui era il re che doveva morire no? beh si si interpreta no? prendendo da un certo punto di vista anche le come dire i romanzi del Graal ci sono delle morti no? comunque adesso non comunque questa conquista dello spazio di fatto poi si è chiusa afflosciata afflosciata un po' come quando tu una volta ottenuto una certa cosa non hai più bisogno sulla luna non ci non ci siamo più tornati per motivi ovviamente economici perché costava troppo diciamo così poi dopo c'era chi diceva sì ma sono tutti soldi buttati via in realtà bisogna spendere i soldi per le persone giustamente di fatto poi la conquista dello spazio la NASA tutto quanto finisce con quella esplosione dello shuttle muore tutto l'equipaggio anche quello un evento seguito in diretta purtroppo e lì si chiude tutto quindi tutto questo afflato tutta questa spinta verso lo spazio che noi sappiamo essere anche i nostri amici cosmisti erano molto proiettati entrambi le superpotenze erano proiettate in questa corsa verso lo spazio alla fine la corsa nello spazio è finita non se n'è più si è sostituita poi nel decennio successivo con la saga di star wars che ha un po' riempito forse questo questo vuoto però forse lo scopero era raggiunto no questo spostamento dei limiti dell'immaginazione non del fantasticare ma dell'immaginazio l'immaginazione una volta nelle psicologie classiche rinascimentali medievali si diceva che ciò che può essere immaginato può essere realizzato e che quindi per questo bisogna custodire l'immaginazione e non cadere nella fantasticheria perché la fantasticheria fa creare mostri fa creare cose che non devono essere create ora qui si è lavorato proprio sull'immaginazione uno spostamento al di là dei limiti ecco questo è quello che penso e certamente ci sono molti indizi se noi guardiamo leggiamo i libri degli scienziati del Tavistock di Kurt Levin di Bernays soprattutto troviamo comunque ecco dei ragionamenti che riguardano proprio come si sposta come si manipola anche a un certo punto l'immaginazione soprattutto Bernays che è questo autore importantissimo per il marketing e per la pubblicità nipote di Freud che scrive l'ingegneria del consenso propaganda eccetera il quale è stato uno scienziato delle trasformazioni delle masse era molto attivo in quegli anni tu prima hai parlato del film di Mazzucco che è fatto molto bene perché nonostante quello che si possa pensare è molto obiettivo perché non è un film necessariamente complottista mette insieme tutto il materiale che è stato raccolto finora su questo argomento e ognuno può farsi la sua idea ci sono le immagini di questi astronauti che tornati da questa impresa mirabolante sembrano preda a un shock depressivo depressione sì ci sono le immagini della della conferenza stampa dove tormentano le penne insomma non non sanno dove guardare sono visibilmente imbarazzati impressionante sì e c'è anche un film uscito recentemente che si chiama The Man credo no First Man il primo uomo che è un film su Armstrong sul primo uomo che che sbarcò sulla luna ed è un film che è un po' noioso insomma non è che sia a me non è piaciuto moltissimo però finisce con lui che ritorna sulla terra uscito dalla quarantena vede la moglie si guardano così senza dire nulla non hanno neanche un moto così di gioia di entusiasmo e il film finisce così uno rimane un po' perplesso però però come dire qualcuno ha detto sempre in un film recentissimo di Nolan Interstellar c'è una cosa buttata lì così a passare nella sceneggiatura protagonista prima di compiere il suo viaggio all'interno dei buchi neri va a parlare a scuola per la figlia e gli dicono insomma buttano lì che non siamo mai stati sulla luna una cosa un po' strana ecco nel cinema succede varie volte da Capricorn One dove si fa si racconta un finto allunaggio a un James Bond nel quale per caso James Bond si si finisce sul set dell'allunaggio e ce ne sono un po' ci giocano e non ci giocano insomma diciamo che per voler essere assolutamente non accusati di complottismo assolutamente perché non lo si assolutamente perché noi amiamo insomma lasciare tutte le porte aperte molto probabilmente vista le difficoltà tecniche di realizzare delle fotografie a temperature lunari che sono freddissime per usare un eufemismo potrebbero avere realizzato delle fotografie in studio nel caso quelle vere diciamo così non fossero state possibili da realizzare ecco diciamo che come questo non questo ci sta ecco posso testimoniare che io ho una ass blood l'ho usata e non la uso più perché non insomma non si trovano più le pellicole come quelle insomma non modificata e in montagna non riuscivo a usarla meno 5 gradi meno 10 sì e recentemente ho visto anche una un così un articolo scientifico su dei giubbotti che potrebbero aiutare gli astronauti una volta che si ricominciasse ad andare a uscire nello spazio a superare gli effetti negativi delle fasce di Van Allen che c'erano anche loro quanto pare però il problema pare mai risolto fino ad ora però insomma c'è qualcuno che anche ha detto ha messo in dubbio l'esistenza appunto di queste fasce di radiazioni mortali quell'estate lì fu un'estate dopo la luna ci fu il massacro di Bel Air ah sì certo e poi pochi giorni dopo il grande rito dionisiaco di Woodstock uno lo può chiamare con certo rock però può anche chiamarlo rito dionisiaco la strage di Bel Air colpiva Hollywood e venne attribuita a una comune hippie e questo viene anche considerata la morte del movimento hippie dove peraltro ci furono altri altri episodi di violenza di delitti come molti moltissimi 69 e 70 ce ne furono molti testimoniati ma questo fu particolarmente colpì molto nell'immaginario perché colpiva la moglie di un regista molto famoso Roman Polanski sua moglie Sharon Tate fu massacrata che era incinta furono massacrati i suoi ospiti e il capo di questa comune lui non partecipò materialmente ai delitti furono un gruppo di ragazze ed era questo capo di questa comune si chiamava Charles Manson questo personaggio così spiritato che tutti un po' si ricordano e questo fu anche questo un caso che poi dopo si disse che qualcuno mise in dubbio ecco che fosse che fossero stati loro che fossero stati solo loro lui giustificò questa questo delitto dicendo che voleva vendicarsi perché lui aveva velleità di fare il cantante lì credeva che abitasse uno uno dei beach boys se non sbaglio ette varie versioni disse che voleva scatenare l'Elte Skelter quindi i Beatles la rivolta le guerre razziali tra bianchi e neri uno di quei personaggi un po' che non si sa se sono matti o fanno i matti è come se a un certo punto gli hippie quelli ingenui diciamo che venivano da tutte le parti degli Stati Uniti e che si limitavano a divertirsi a far baldoria e qualcos'altro fossero diventati inutili perché da quel momento effettivamente il movimento hippie viene demonizzato certamente questi avevano creato un sacco di problemi San Francisco prima avevano portato soldi ma poi alla fine avevano gettato un po' la città nel caos questo sogno di cui parlavano era svanito era svanito nella droga poi era svanito nella violenza era svanito nella prostituzione e quindi il caso dell'omicidio di Sean Tate servì un pochino lo servì sui giornali fu utilizzato in questo modo sui giornali per mostrare quello che era il lato notturno degli hippie bisogna anche dire poi che questo personaggio aveva comunque se si legge la sua biografia se si legge la biografia dei Beach Boys se si legge la biografia di tanti altri personaggi del mondo del rock collegati agli hippie di Iteshbury della San Francisco del Tempo o anche di Los Angeles avevano collegamenti a volte bizzarri con servizi di vario tipo servizi navali intelligence eccetera anche internazionali quindi questo fece un enorme scalpore da quel momento si può dire che il movimento hippie vero e proprio finì tra l'altro nel 69 ci furono disordini in tutto il paese negli Stati Uniti perché da noi erano stati un fenomeno transitorio e poco importante da noi ci sono state altre cose per slittare da lì ci sono stati gli hippie da noi c'è stata la politicizzazione c'è stata la strategia della tensione lì cominciarono nel 69 nell'autunno del 69 attentati con i weatherman questi ex hippie comunque rivoluzionari anarchici che andavano in giro e fecero centinaia e centinaia di attentati dinamitanti proprio nel 69 e poi attorno a questo personaggio che comunque fu messo in galera ancora in galera Charles Manson è morto nel frattempo è morto sì è morto comunque è morto in carcere morto in carcere the family si chiamava peraltro alcune di queste ragazze erano figlie di note attrici ecco mentre avveniva questo alla cerimonia degli Oscar veniva presentato Rosemary's Baby che era il film di Polanski che raccontava fondamentalmente la venuta dell'anticristo fu presentato alla cerimonia degli Oscar nel 69 nell'aprile aprile del 69 quindi questo avvenne un po' dopo ma diciamo che ci sono tante strane analogie ci sono comunque dei collegamenti che fanno pensare al fatto che lui sia stato forse qualcuno si sia vendicato nei suoi confronti comunque la stagione degli IP doveva finire avevano creato troppo disordine in certe parti degli Stati Uniti e poi lo stesso Manson insomma nelle sue memorie ci racconta tante cose che ci lasciano un po' dubbiosi sul fatto che sia stato davvero lui abbia ordinato lui diciamo che anche lì questo è un fatto non del tutto chiarito dove c'è stato sono stati dei sacrifici umani fondamentalmente quello di Sharon Tate del suo bambino il bambino che portava in grembo che fu estratto fu comunque fu una cosa terribile e poi anche quei due i coniugi la bianca che il giorno successivo mi pare furono massacrati senza senza motivo perché non pare che non ci fosse nessun legame tra i due tra i due i due tipi di vittime non non c'era nessun legame furono furono massacrati anche loro comunque uno sono di quei delitti che anche nella storia criminale segnano anche qui un avanzamento dell'immaginario del dicibile del possibile dopo negli anni settanta iniziano i serial killer esattamente così dal 69 in poi c'è una crescita il fenomeno del serial killer sicuramente quelli verificati e si comincia a lavorare su quel fenomeno di cui abbiamo parlato insomma qualche tempo fa proprio da quegli anni lì perché nel 69 ce ne sono tanti 69 70 71 72 cominciano a essere verificati i primi casi dei cosiddetti estremi dei serial killer estremi quindi lo spostamento in là del dicibile contemporaneamente nasceva la nuova Hollywood nel 69 perché il primo film che è considerato nuova Hollywood cioè vengono messi un po' in soffitta i vecchi autori della Hollywood precedente quella insomma degli anni 40 50 60 che ancora in fondo almeno formalmente difendevano certi valori la famiglia l'America com'era no e vengono sostituiti dal diciamo il film che viene considerato l'inizio della nuova Hollywood è Easy Rider in Easy Rider noi troviamo degli hippie che fanno tutti poi fondamentalmente una brutta fine si drogano cioè muoiono poi alla fine vengono uccisi e la nuova Hollywood sarà completamente diversa dalla vecchia Hollywood ci saranno degli incroci delle sopravvivenze fra l'una e l'altra però poi si andrà sempre di più verso una diciamo delle produzioni cinematografiche sempre più ciniche se vogliamo sempre più demoralizzanti sempre più negative anche con una visione della vita delle cose della società sempre più negativa si andrà verso la demoralizzazione ilmaniana no? e soltanto negli anni 80 ci sarà una parentesi ma poi si è ricominciato ne abbiamo parlato sì un pochino ecco anche nel cinema questa cosa è molto visibile nel mezzo del decennio abbiamo qualcuno volò sul nido del cuculo infatti nel 75 che Ken Casey era quello che con con l'LSD insomma ha contribuito insomma ad aumentare il consumo ah sì lui personaggio poi magari avremo occasione di parlare ma si ne parleremo quando presenteremo il tuo libro che è stato recentemente rieditato con molte aggiunze rivoluzione psichedelica però lui e dico solo una cosa veloce è stato come dire preparato in un ospedale militare come molti di questi personaggi no credo che anche Fabbroni abbia accennato questi legami no c'è quel libro molto interessante che si chiama strane cose all'Aurel Canyon dove tanti di questi collegamenti che prima erano sparsi li vengono messi tutti assieme come in Italia perché anche in Italia abbiamo avuto tanti esponenti di quegli anni lì 69-70 i primi che erano figli di ammiragli dei servizi navali servizi segreti della Marina guardando i film che escono in quell'anno dunque c'è il satirico di Fellini Pasolini realizza Porcile e Medea quindi in Porcile c'è un fece molto scalpore una scena dove un ragazzo viene mangiato dai porci e Medea sappiamo che il mito di Medea è una che uccide i figli Visconti realizza la caduta degli dèi dove c'è una famiglia nazista ci sono incesti eccetera è una visione della famiglia di Visconti Mario Ferreri realizza il seme dell'uomo dove c'è un film distopico dove finisce con una con un'epidemia quindi cose molto leggere e anche Dillinger è morto dove c'è un femminicidio c'è uno che uccide la moglie quindi insomma un bel tutto un programma un po' il maniano anche tutto questo poi adesso se non sbaglio mi pare che sia di quell'anno lì esce anche il romanzo Teorema di Pasolini dove uno sconosciuto arriva in una famiglia dove c'è moglie marito figlio figlia insomma la servetta eccetera e seduce tutti me volevo fare una famiglia insomma uno sconosciuto che arriva e questo no poi va bene Pasolini viene visto come un profeta in certe cose assolutamente io penso però che quel film lì fu del 68 prima però sai poi c'erano i film del sé comunque i film allora avevano una durata molto lunga quindi comunque gli effetti magari li vediamo li abbiamo visti anche nel 69 anche perché ebbe dei premi nel 69 no sì sì comunque era molto attivo e concludendo il nostro discorso sul 69 vabbè Woodstock è stato un un concerto affatto spontaneo un raduno affatto spontaneo di 500.000 persone dove appunto fu una grande festa di rock sesso e droga un evento sicuramente importante dal punto di vista musicale ma non fu l'unico perché ci fu anche l'isola di White quindi gli Stati Uniti e il Regno Unito insomma si fecero questo scambio poi ci furono dei concerti è molto interessante leggere nel libro di Jones Il ritorno di Dioniso parla dei concerti dei Rolling Stones degli effetti che avevano i concerti dei Rolling Stones diventavano degli eventi Sì 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 Proprio quell'anno lì ci fu anche la morte di un ragazzo a un concerto degli Stones perché loro avevano affidato il servizio d'ordine agli Hell's Angels i quali erano a un certo punto si erano fatti pagare in casse di birre e quindi ubriachi ci scappò questo morto questo ragazzo che fu al coltellare durante il concerto e quindi questi riti questi riti così su queste grandissime cifre di spettatori che poi anche quelle sono andati sì con i grandi concerti rock hanno continuato tutti gli anni fino agli anni 80 forse gli ultimi concerti dei Queen a Wembley e poi anche quello è finito insomma è una cosa che è stata forse anche il rock ha esaurito il suo il suo compito ha esaurito il suo compito peraltro se uno si va a vedere perché ero incuriosito al suo tempo a vedere chi organizzasse queste cose perché sembrava che fossero dei ragazzini che si mettevano così a organizzare questi concerti dove arrivavano un milione due milioni di persone in realtà erano facoltosi venivano da famiglie importanti venivano da famiglie di banchieri venivano da famiglie collegate con senatori eccetera cioè chi ha organizzato Woodstock Altamont questi questi concerti soprattutto negli Stati Uniti non erano i primi venuti assolutamente non era non veniva dal basso veniva da persone facoltose che avevano i mezzi avevano i giornali e per questo sono riusciti a fare queste cose poi si è creato il mito del concerto creato così perché la gente lo voleva voleva ritrovarsi ma non è proprio così non sono cose che sto inventando si trovano anche su libri volendo si trovano e si cercano si cercano e si trovano io volevo aggiungere una cosa scusa sul cinema ma io considero anche importante questo avvenuto io insomma io ma poi si trova anche nelle storie del cinema quindi non mi permetto di essere uno che trova le cose perché no ecco il cambio della guardia ad Hollywood ancora ho detto prima che si passa alla cosiddetta New Hollywood ma c'è anche un motivo istituzionale per cui questo succede perché nel 1968 Jack Valenti Jack Valenti che era da molti anni il dirigente massimo dell'associazione del cinema americano l'MPAA quindi la Motion Picture Association of America quindi la più potente fra queste associazioni che radunava i cineasti gli sceneggiatori tutti quanti questo cambia il sistema lui decide ma su pressione su pressione probabilmente di Lyndon Johnson perché lui era un secondo collegato a Lyndon Johnson il presidente che era andato al potere dopo la morte di Kennedy Jack Valenti era diciamo così un cattolico un cattolico liberal e aveva questo importantissimo ruolo nel 68 cambia abolisce la censura e che c'era fino a quel momento codice Hays se non sbaglio codice Hays sì esatto codice Hays era già stato abolito però comunque esisteva in qualche forma esisteva ancora certo era stato trasformato ma comunque lo Stato aveva il potere c'era una commissione che aveva il potere di censurare soprattutto se c'erano scene troppo violente scene in cui si mostrava sesso oppure si mostrava troppo esplicite oppure altre cose insomma di questo tipo il sangue eccetera questo nuovo sistema che è quello che fondamentalmente è ancora in voga oggi cioè in voga ancora utilizzato oggi divide in varie fasce i film cioè la fascia per tutti gli utenti la fascia cosiddetta parental guidance dove i bambini devono essere accompagnati quella dei vietato minori 13 anni che da noi è stato 14 poi restricted che sarebbe vietato minori 18 anni e poi diciamo la fascia solo per adulti che poi diventerà la triple ax quella quindi dei film pornografici ma erano a questo punto non era più lo stato a decidere erano le stesse case cinematografiche che si mettevano apponevano erano obbligate a apporre questo tipo di marcatura questo ovviamente se loro mettevano la triple ax tagliavano fuori tutta una serie di pubblico ovviamente ma che cosa ha consentito questo fondamentalmente ha consentito di ammettere la pornografia che prima non era ammessa era fuori legge allora questo è un cambiamento che ha i suoi effetti nel 69 perché questa modifica viene fatta nel 68 ai suoi effetti nel 69 che ha un grandissimo effetto subito perché nasce questa industria che prima non esisteva che sul cambiamento dei costumi e lo spostamento in là del lecito dell'immaginazione di cui vi abbiamo parlato per quanto riguarda la conquista della luna ebbe subito degli effetti molto molto grandi ciò che prima non era lecito ciò che prima non era o si faceva insomma tra le quattro mura ma comunque non si sbandierava in questo modo diventa non solo lecito ma diventa chic perché la cosa interessante che si trova nelle storie del cinema è che nel 69 proprio viene fatta una sorta di esperimento sociale per cui vengono 69 anche il 70 e per due o tre anni poi basta vengono distribuiti nei cinema normali cioè nei cinema di tutti nei cinema dove andavano anche le famiglie dei film pornografici quindi diciamo con atti sessuali non simulati uno era The End of World che si chiamava Blue Movie dove probabilmente non si vedeva molto ma comunque non era simulato poi ce ne sono altri uno si chiamava Mona mi sembra e poi ce ne sono altri ancora due o tre quattro questi vengono distribuiti per qualche settimana si crea lo scandalo arriva il giudice li sequestra li dissequestra poi alla fine vengono messi nell'area XXX però intanto si crea il cosiddetto fenomeno che viene chiamato del porno chic cioè questi film cominciano a essere discussi cominciano a essere discussi dagli intellettuali se ne parlano i talk show cioè cominciano a diventare finestra di Overton ad essere accettati e anzi intellettuali più progressive più liberal no si mostrano assolutamente favorevoli no a questi tra l'altro questa industria diventa subito ricchissima e si collega a quella del rock e sono gli stessi sono gli stessi addirittura gli stessi personaggi che negli anni 70 sono dentro l'industria della pornografia e dentro l'industria del rock e questa è una cosa che si chiamano interessante in un caso poi un film che si trova appunto nelle storie del cinema proprio per questo fenomeno che fu creato che si chiama Dietro la Porta Verde fu usata diciamo così un'attrice una performer che pochi mesi prima fino a pochi mesi prima era stata una famosissima modella compariva come mamma per uno sbiancatore ivory snow si chiamava quindi biancaneve neve bianca per la lenzuola e questa compariva bionda con un bambino in mano quindi era considerata la mamma d'America la giovane mamma d'America proprio questa viene usata le danno un sacco di soldi per fare questo film che viene presentato per qualche mese non so dirti quanto ma qualche mese perché poi viene sequestrato ovviamente la cosa poi viene impedita ma intanto fa una distribuzione guadagna soldi e e gli intellettuali ne parlano ecco è questo è il cosiddetto fenomeno del porno chic che ha anche in Italia in Francia no con Nagisa Oshima l'impero dei sensi cioè questo esperimento questo è un esperimento sociale questo è un esperimento sociale è uno spostamento in là dei limiti del lecito di quello che era considerato lecito e che è lecito adesso avviene in Francia in Germania in Italia non in Spagna perché da allora c'era Franco quindi è una cosa poco studiata forse ma è assolutamente vera addirittura questo questo ultimo film che citavo viene presentato al festival di Cannes Behind the Green Door viene presentato al festival di Cannes quindi anche gli intellettuali non so Truffo no ma non so Lelouch questi quell'altro lì che fa sempre i film adesso mi sfugge era un regista francese comunque Godard forse Godard si concede la pornografia inedicola quindi è tutto noi abbiamo parlato della luna abbiamo parlato di tante cose la strategia dell'attenzione ma vengono anche queste cose che su un altro piano sono altrettanto importanti perché poi portano comunque ecco va bene sono operazioni antifamiliari sempre con il senso di far qualcosa di bene per la libertà e tutte queste queste belle cose come in tutte le in tutte queste cose qui c'è chi lo vede come un superamento di certi limiti limiti del passato e poi alla fine si si stradipa questi limiti poi una volta che ne hai eliminato uno cadono tutti tutti sì perché poi c'è diciamo c'è la depenalizzazione dell'adulterio no ma che era semplicemente un prodromo al divorzio che viene diciamo che arriva nel 70 e dopo di che allora si diceva ma perché punire l'adulterio della femmina e non quella del maschio non quello del maschio per la parità però poi arriva l'altro e poi arriva anche l'aborto insomma adesso stiamo arrivando l'aborto al nono mese in certi posti cioè è famosa richiamiamo il povero Overton finestra di Overton no o comunque sono tutti fenomeni studiati da Bernays da Kurt Levin da Stavistock cioè ci sono elementi dietro non avviene per caso tutto questo queste cose che ti ho citato credo che siano abbastanza impressionanti sono venute anche in Italia ricordi l'ultimo tango a Parigi che viene lì va bene più o meno simulato non si capisce non ha importanza però viene sequestrato dissequestrato guadagna tantissimo tutto voluto addirittura bruciato bruciato ma non è vero io non ci ho mai creduto anche perché adesso si trova quindi è passato anche in televisione quindi se uno ci vuol credere ci crede altrimenti diciamo che sono a volte roghi metaforici ma sì assolutamente ecco quindi abbiamo parlato di un anno molto movimentato in tutti i sensi che chi ci ascolta poi trarrà le sue le sue conclusioni noi appunto non abbiamo tesi proponiamo delle letture delle chiavi di lettura poi ognuno si fa la sua idea più o meno di che cosa possono essere stati significati noi poi abbiamo il vantaggio del post hoc guardiamo a praticamente 50 anni addietro in base a tutto quello che è successo dopo traiamo delle conclusioni che possono che allora probabilmente sarebbero state impossibili bene io ti ringrazio e anticipo che parleremo ritorneremo a parlare di quegli anni del rock and roll del tridente di Shiva il tridente di Shiva come no ho sentito ma assolutamente d'accordissimo su quella su quella definizione che Fabroni no si sesso droga in rock and roll che potrebbe anche essere definito come femminismo profondo come possessione attraverso la droga e come ecologia profonda questo è anche il tridente di Shiva quindi parleremo di rivoluzione psichedelica che è il libro di Mario che presenteremo prossimamente grazie Mario grazie grazie a te buonasera ah dimenticavo la bibliografia ci siamo dimenticati tre libri e un dvd e un blu ray anzi per approfondire un po' gli argomenti che abbiamo trattato in questo video cominciamo da Paolo Conti 1969 tutto in un anno questo mi è servito come scaletta poi di Ezio Guaitamacchi figli dei fiori figli di satana parla di del movimento hippie del caso Manson un testo invece in lingua inglese ma voi siete bravissimi sul commetto A Hundred Days How Four Events in 1969 Shaped America di Harlan Lebo questo libro è interessante perché parla di Woodstock parla della luna parla di Manson ma parla anche di internet e già perché internet nasce proprio nel 69 si chiama Arpanet proprio nel 69 viene mandato il primo Whatsapp non si chiamava Whatsapp ovviamente anche se pare che i social fossero già studiati allora addirittura agli inizi degli anni 60 infine per chi vuole gustarsi qualche ora di ottima musica il film che racconta i giorni di Woodstock c'è tutto proprio tutto tutto ed è molto interessante anche sono interessanti gli extra perché fanno vedere tutta la preparazione di questa grandissima Kermesse se ti è piaciuto questo video sono molto contenta e spero che ne troverai altri nelle tante playlist che abbiamo creato che potrai guardare e apprezzare magari consigliandole ai tuoi amici magari pubblicandoli sui social grazie per la visione e arrivederci al prossimo video ciao ciao